E' possibile vedere da pochi giorni il trailer di Saw 10, decimo capitolo dedicato alla saga di Saw. Ben ritrovati e ben ritrovati su In Genere Horror, io sono sempre Greg, un benvenuto ai nuovi spettatori, vi invito a dare una sbirciata al mio canale, a guardare i video che carico, soprattutto recensioni ma tanto altro, iscrivetevi al canale se vi va perché lo potete sostenere e potete darmi maggiore entusiasmo per caricare sempre più contenuti. Ma parliamo di Saw 10, l'utilizzo del numero romano ovviamente, come piace fare gli americani in questo caso, quindi all'americana Saw X, per la regia di Kevin Grutter che torna dietro la macchina della presa a girare un episodio di Saw, ne aveva già fatti un paio e ne aveva anche curato il montaggio sostanzialmente di tutti i capitoli, fin dal primo. E di cosa parla questo Saw 10? Narrativamente, cronologicamente parlando, siamo incastrati tra il primo e il secondo, tra Saw 1 e Saw 2, quindi cerchiamo di capire anche che cosa significa incastrarsi in questa linea narrativa. Siamo all'inizio della saga, una saga iniziata con Saw del 2004, diretto da James Wan e ideato insieme a Lee Wannell. Troviamo il nostro John Kramer, il protagonista, detto anche Jigsaw, è un malato terminale che organizza giochi mortali a cui partecipano persone che lui stesso rapisce, non è l'unico a rapirle ma poi vedremo, che lui rapisce perché le sceglie tra le persone che hanno perso un po' il senso della vita possono avere una seconda possibilità ma devono riuscire a capire che devono rinunciare a qualcosa per riuscire a venire fuori da questi enigmi, da queste trappole mortali. John Kramer è chiamato anche Jigsaw dal termine in inglese puzzle, il puzzle è proprio un tassello, richiamare un tassello di un qualcosa che queste persone sembrano aver perso della loro vita e devono riacquistare, riconquistare, possono avere una seconda possibilità. Il film è incentrato soprattutto poi come luogo principale in fettido bagno dove ci sono i due protagonisti legati, due vittime legate alla caviglia con delle catene e poi si va verso il famoso e clamoroso colpo di scena finale. John Kramer, benché malato, lo ritroviamo anche in Saw 2, malato sempre più debole ha però questa volta un complice che è Amanda, una di quelle che ne è venuta fuori da queste trappole, quindi ha avuto, ha potuto scegliere, ha potuto ottenere una seconda possibilità e addirittura ringrazia John Kramer per avergli radata. Diventa suo complice, il duo lo ritroviamo anche in Saw 3 ma entrambi perderanno la vita e John Kramer lo ritroviamo in Saw 4 solamente su un letto durante l'autopsia dove all'interno del quale il medico troverà un piccolo registratore con una piccola audiocassetta e da lì si ricominceranno una serie di giochi perché ci sarà un nuovo complice, questa volta Hoffman che porterà avanti il disegno di John Kramer. Scopriamo anche John avere una moglie, Jill, che ha perso il bambino, il figlio mentre era incinta e questo duo, Jill e Hoffman, li ritroviamo anche in Saw 5, mentre in Saw 6 Jill si rende conto, scoprendo una scatola che viene fuori da materiali ereditati dal marito, viene a sapere, si documenta, viene a sapere che Hoffman non è veramente la persona giusta per portare avanti questo disegno, il disegno del marito e quindi lo intrappola in una delle trappole mortali. Hoffman però riesce a sopravvivere, torna nel settimo capitolo Saw 3D dove addirittura uccide Jill, ma a sorpreso una salta fuori Lawrence Gordon che è il medico, uno delle due vittime incatenate nel fettido bagno del primissimo episodio, il quale era riuscito a scappare segandosi il piede e liberandosi dalla catena e lo stesso Lawrence Gordon viene fuori a essere anche lui, far parte di quelli che hanno avuto una seconda occasione e anche lui fa parte di complici, di tanti complici che riesce ad avere John Kramer nel corso del tempo e dei capitoli di Saw. Lawrence Gordon quindi riesce a prendere, a incastrare e a rapire Hoffman, lo porta addirittura nel bagno del primissimo episodio e vendica sostanzialmente Jill per conto di John. Non finisce qui la storia perché si prosegue con un ottavo capitolo chiamato Saw Legacy, o meglio titolo originale, Jigsaw, tanto pomposo quanto poco misero nella realizzazione perché il film è molto fiacco, perché gioca sulla sorpresa della possibilità che Jigsaw sia ancora viva ma in realtà non lo è, di fatto c'è un gioco tra flashback e situazioni attuali per cui un nuovo enigmista, un nuovo imitatore o un nuovo complice che porta avanti i giochi di Jigsaw mentre la narrazione si sposta anche con il racconto a quello che è stato il passato. Fiacco ottavo capitolo ma non fiacco quanto il nono che è considerato uno spin-off ma in realtà Spiral è un nono capitolo, un nuovo enigmista, nuove situazioni, nuove trappole ma in realtà di nuovo non c'è assolutamente nulla. Stancamente arriviamo e ci avviciniamo al decimo capitolo, appunto diretto da Kevin Grutter che porta avanti una storia che di per sé poco avrebbe ancora da raccontare. Dal trailer cosa riusciamo a capire? Riusciamo a capire intanto che John Kramer è in Messico quindi come ho detto, come ho anticipato ci troviamo cronologicamente tra il primo e il secondo capitolo della saga John Kramer sta cercando una cura per la sua malattia per il tumore che ha in testa va in Messico, si reca verso uno studio di medici che però risultano essere di medici truffaldini truffano John Kramer, sostanzialmente lui torna a casa avendo ancora la sua malattia, non è stato curato questi medici dimostrano di seguire solamente il vil denaro John Kramer cosa farà? Li prenderà e li porterà ovviamente li farà partecipi dei suoi giochi, dei suoi macchinari mortali quindi si ripropone un po' tutto il gioco che avevamo già visto che abbiamo visto negli ultimi fiacchi capitoli ma che questa volta rivediamo essere fatti direttamente dal protagonista assoluto da John Kramer che per farlo rivivere l'unico modo per farlo rivivere era quello di fare una sorta di prequel questa volta però incastrato un capitolo incastrato tra l'uno e il due si complica un po' tutto in una situazione che è stata resa complessa dall'utilizzo di vari personaggi la moglie, i complici, persone che si sono salvate e che ritornano qui più che altro si cerca di giocare su un passato e si cerca di invertire una storia, una situazione narrativamente parlando che probabilmente ha già detto tutto ma insomma l'unico modo era appunto quello di ritornare incastrare la vicenda in qualcosa di già visto soprattutto utilizzando John Kramer perché senza di lui, senza Gixo effettivamente la saga in piedi non ci sta continuando a riproporlo significa tornare al passato è anche difficile riuscire a proporre qualcosa di nuovo le trappole sono quelle, i giochi sono quelli, la metodologia è quella ripeto, magari si è trovato il modo per tirar fuori qualcosa di nuovo scavando in quella che può essere la psicologia, la storia di John Kramer ma tanto di lui già conosciamo quindi vediamo che cosa saranno stati in grado di fare 26 ottobre in sala, comunque la curiosità di vederlo c'è perché perlomeno torna l'iconico protagonista torna Gixo che è già diventato un iconico come iconico al pupazzo sul triciclo e la risata malefica quando anche questo introduce qualche giochino insomma il film è riuscito soprattutto il primo capitolo, il primissimo è riuscito a proporre un qualcosa un'icona un nuovo personaggio all'interno di un horror degli ultimi anni sostanzialmente significativo amato da tanti il pubblico ha sempre risposto tanto che si è arrivati addirittura a 10 capitoli a 10 film vediamo, la serialità alle volte è importante ma se annacqua una storia che dopo il terzo o quarto capitolo cominciava ad essere un po' tirata per i capelli è sempre un peccato diamo fiducia a questo show 10 cerchiamo di vedere che cosa si sono inventati per renderlo interessante vediamo che cosa ne verrà fuori buona visione per il 26 ottobre in sala e alla prossima grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti